Già accade, la pet therapy è spesso una risorsa importante, nelle scuole, nell'RSA, nei centri disabili. L'intento ora è quello di formare nuovi operatori sul territorio per ampliare la possibilità di impiego di questo metodo educativo e terapeutico. Da qui il corso di primo livello organizzato da ATS Brianza, Propedeutico e gli interventi assistiti con gli animali. 21 ore totali, 3 giorni, il 10 e il 17 novembre e il 1 dicembre. Le lezioni si terranno nella sala conferenze di ATS in corso Carlo Alberto a Lecco. Gli animali possono portare benessere, possono favorire una condizione di buona salute, possono aiutare a curare malattie. Per questo motivo riteniamo che si debbano sviluppare, soprattutto nelle strutture sociosanitarie, dei programmi stabili che vedano la partecipazione appunto di animali. ATS, per favorire questa situazione ottimale per le strutture sociosanitarie, ha deciso di attivare dei corsi di formazione per quegli operatori che si potrebbero incaricare di gestire gli animali nel rapporto con gli ospiti delle strutture residenziali e delle comunità. Un corso di primo livello articolato su tre giornate, il primo diciamo di una serie di appuntamenti che poi intendete programmare nei prossimi anni? Assolutamente sì, questo è il primo corso propedeutico che organizziamo. Sono 21 ore di lezione frontale in tre giornate. È aperto a tutte le figure professionali che possono intervenire in questo tipo di attività. Tra le figure professionali ci può essere responsabile dell'attività al coduttore dell'animale, che non è necessario nessun titolo di studio tranne che la scuola dell'obbligo. Quindi è veramente aperto a tutti e vogliamo coinvolgere il più possibile tutti gli operatori o le persone interessate che abbiamo nel nostro territorio.